ciao a tutti e bentornati ancora una volta su indie gameplay ita oggi un video aggiornamento su space haven prima di tutto desidero ringraziare aldo petalone che mi ha scritto ieri sera e mi ha avvertito di queste novità quindi grazie aldo space haven ha avuto un aggiornamento è completamente in italiano e se vedete la versione in basso 0.8 diciamo che stiamo andando verso perlomeno una versione beta e gli sviluppatori hanno detto che intendono pubblicare entro l'anno su steam poi in questo video alla fine andremo a vedere come acquistare il gioco ora intanto vi faccio vedere che hanno aggiunto la modalità di gioco normale o la scenario poi si va avanti si seleziona vabbè scusate la normale è l'unica che c'è piattaforma semplice o abbandonata si dà il nome alla partita si va avanti si seleziona la difficoltà si va avanti e poi c'è la caju che possiamo andare a personalizzare e poi vedete tutte le abilità in italiano questo è un gran punto di vantaggio ma che cosa ha aggiunto questa patch andiamo a vedere ecco questo l'aggiornamento del nove di aprile quindi sono già passati un paio di giorni sono state aggiunte fasi avanzate di gioco personalizzazioni localizzazione miglioramenti alla mappa spaziale infatti vedete che qua ci sono cose avanzate diciamo di personalizzazione alla partita la customizzazione la sandbox quindi la possibilità di disponere risorse come si vuole si può andare anche a scegliere chi prenderà parte i viaggi nello spazio miglioramenti alla mappa che è questa nuove feature la nebbe di guerra si possono andare anche a prendere adesso le navi abbandonate quindi si può andare a mandare qualcuno all'interno e prendere possesso della nave quindi farla nostra e aggiungerla alla nostra flotta sono state aggiunte nuove fazioni per le navi e sono state aggiunte 12 localizzazioni diverse ovviamente credo sia un lavoro comunque in continuo di venire perché usciranno patch nuove insomma quindi c'è anche la possibilità di andare a dare una mano ora si acquista al bug bite store comunque vi basta scrivere in google space haven e vi riporta diciamo questo sito con è una sorta di sito kickstarter dove si può andare a ordinare l'alpha crea un member quindi a 30 dollari quindi qualche 25 euro presumo da l'alpha access quindi l'accesso di adesso tramite il loro sito vi scaricate l'applicazione che è auto aggiornante quindi potete fare l'aggiornamento direttamente da lì e la steam key o gog key questo è il il costo del gioco poi volendo potete andare a aggiungere un membro della crea col vostro nome offrire solo un caffè oppure andare a prendere cose un pochino più avanzate di gioco tra cui anche questa che vi dà un botto di roba potete fare una una ricetta di una birra addirittura nome di una fazione un capitano insomma un sacco di cose che vabbè dipende quanto siete fanatici quindi insomma questo è l'aggiornamento grazie ancora ad aldo petrone che tra l'altro ti chiami come il il direttore hai lo stesso cognome del direttore della della nasa nel progetto appollo quindi mi fa sorridere questa cosa e niente fatemi sapere cosa ne pensate poi so già la domanda che arriva lo porterà ancora vediamo un gioco complesso magari portiamo in live sul canale twitch così per cominciare diciamo per un po il ghiaccio insomma andare con un try and error fatemi sapere alla prossima ragazzi e ciao ciao